Ti dà il salutatore grandissimo Flavio Parenti, ti chiedo un saluto a tutti i tuoi fan e le mie fan, ciao! Io ti ringrazio e ti regalo la manina del salutatore, così salutiamo... La manina del salutatore? Esatto, che sono io ovviamente, così puoi salutare anche tutti i fan di Tancredi, di Sant'Erasmo, però saluta in maniera molto più seria diciamo Tancredi un po' uno che saluta. Ah ciao, poco sorriso. Perfetto, invece Lorenzo ti vedi con famiglia, così salutiamo tutti i fan, ecco qua, ti ringrazio, ciao!